Siamo andati live, siamo stavolta passati dalle mappe di Overwatch direttamente su Heroes of the Storm Abbiamo appena finito di giocare questo evento organizzato dal Mario Barba, appena finito 20 secondi fa probabilmente Quindi siamo tutti in situazioni abbastanza... Io sono in modalità, mi sto sgonfiando Sì, tipo, però se non fosse che ho appena codato per Hero League, ho pensato Se faccio una quick mi perdo 20-30 minuti, quindi Visto che il tempo è denaro e il tempo soprattutto è tiranno, ho deciso di codare subito Quindi buonasera, ben ritrovati su Minecraft Qui con me c'è uno Jekyll in sgonfiamento E come al solito noi siamo pronti per giocare anche questa sera Ultime partite, ultimi tentativi di tornare in Master prima della fine della season Che sarà appunto la settimana prossima E ecco, quindi direi che siamo assolutamente agli sgoccioli Quindi Battlefield of Eternity, Bundy, Ragnaros, sicuramente mi torna buono avere Valla fra spicca Anche se c'è la Sylvanas, c'è un po' di tutto insomma Valla comincia a workare già dal 1, Sylvanas già dal 7 Ma Sylvanas dà più influenza sul push dopo il livello 7 Perché appunto, cioè, Sylvanas nonostante inizia a girare meglio con gli immortali Dopo, aiuta da prima perché ovviamente spegne le strutture Quindi Con chi stai parlando per inciso? Con me stesso Ah ok Io parlo da solo Quindi Sylvanas va là Però ti vedo offline io, sai? Io mi vedo super online quindi Ok adesso è partito Abbiamo, sì, nonostante gli inconvenienti dal prima giornata Valla o Sylvan? Dicono Valla, io Valla Non mi voglio Valla I thought Sylvan Valla? Ma ci siamo solamente io e te online? Siamo solo io e te online Noi siamo, beh, ho appena picciato quindi darei anche il tempo LAL Quindi direi che possiamo comunque per ora partire così Che peccato, che peccato davvero Mi è dispiaciuto prenderle in questa, in questa modo Diciamo che il fatto che non ci si renda conto della comunicazione che Sì, più che altro, sì Così come in Overwatch Diciamo che è stata presa sotto certi aspetti un po' troppo Alla leggera, certo Ma era anche questo l'intento comunque No, ma sì Spettacolo e penso che spettacolo ne abbiamo dato Comunque abbiamo fatto alla meglio di tre Abbiamo Esatto, abbiamo Fatto la nostra parte Ovvio che potreste a casa la vittoria sempre con un motivo di vanto Ma pazienza Noi siamo sicuri che ci saranno altre situazioni No, l'importante è che si abbia donato per una buona causa E' quello Ok, lo scopo è quello Comunque Già il fatto che sarebbe A parte il fatto che non l'abbiamo finito nemmeno la Bio 3 Quindi Vabbè No, no, la Bio 3 l'abbiamo finita Sì, sì, l'abbiamo finita Abbiamo fatto due Abbiamo fatto due a uno Quindi Due a uno, sì Poi se si vanno a contare i set Sono Sì, no Diciamo che avremmo potuto Saremmo potuto andare avanti A fare cinque game Però Io tre E via Io mi chiedo Io mi chiedo Questo qua Che mi ha preso Tyrell Cosa gli passa per la testa Su Battlefield Il fatto che ha sentito che te vuoi andare a fare la Master E loro bannano Illidan anche Quindi direi che siamo sempre sul Sul confuso andante Comunque mi ha veramente discuscito il fatto di Avrei voluto provare a fare qualcosina di più Però vabbè è andata così Sì Questo comunque dimostra che nonostante noi fossimo in linea di massima il doppio dei loro livelli Hanno comunque Cioè Vado a salutare il kerbuccio va Ok Avessimo Abbiamo comunque sofferto Molto Morale della storia Vediamo un po' allora cosa si riesce a combinare Mmm Butcher Potrebbe essere una serie di situazioni abbastanza imbarazzanti Rinominiamo anche il mio stream Hero Rush to Master Ok Che ti avevi in mente? Ho il potenziale Eh Ci piace molto di più Il Varian E soprattutto se blocca Simpaticone Ah è il rinnegato Io lo conosco Questo è italiano Slash V Il V V V V Gelle Ok Cioè è italiano Quanto meno Io posso andare a Varian Per me Per me Ok Mi di Mi di Perfetto Ci può funzionare questa cosa Allora Vamos Vediamo un po' di far quadrare tutto Ok Crusade Calls Ci dice Johanna Andiamo quindi di farle Cambiare idea Ok Paraparapaparam Vediamo un po' Cosa si combina Dove è il mio stream Che non lo vedo più Allora Ok ci siamo Siamo operativi Pronti via Pronti via Pronti via Di sicuro Mi ha caricato Queste partite Anche se Oggi ho notato quanto sia Diventato lento Stato a steppare con balla Perché sono un paio di giorni Che non ho avuto modo Di giocare In modo Normale Insomma Non ho mai idea dove Arrivano questi Bips Bips Non si sa Mistero Andiamo full depo Usci contro Silvanus Immagino Via Eh si certo Aspetta un attimo Non arrivano Quindi potrebbe essere Che vadano top No Non push No si push Peccato Dunno Try hardare Non va bene Dai PORKBUSH Nice Eh There are five top Uno era comunque tenuto molte più expert con del loro ben 4 kill che schifo! Pessimo inizio! ci sta un kermit qua continuo a chiedermi il motivo del pick di tiro comunque è inutile eva ultare perchè mi infligge danno in base, cioè in generale insomma meglio tenermelo lì buono ok possiamo rushare un sacco ok ok andiamo subito ad aiutare sopra che non si vadano a annullare i bonus di questo punisher e mortaliant Allora Attenzione quello ha attivato la metagliatrice Si sente dall'audio Ok Fontanella E poi possiamo continuare A infastidire Grazie per l'host Automatico Nox Niente Ah Era troppo Era andato indietro varian Non l'avevo visto Pensavo fosse indietroggiato Sull'arcano minimo Questa volta appunto Come si vede Parlando sul band Spa che Aiuta fin dall'inizio Invece che arrivare dopo Come aiuta No Che sfiga Close Eh si Che piaggia giurata Ok Con una mano Riusciamo a fare tutto Bonus Don't K Aveva detto Pick Esotico Comunque Quello degli Butcher Cos'ha preso Malfore Immaginavo Facciamo un rapido Back Così magari Riusciamo a tornare Con un decisamente Più mano Di quanto ne abbia Adesso Sicuramente Prendo lo stun Comunque Perché Silence Ne hanno Abizzeff Quindi Tanto vale Che Piuttosto Li blocco Per quel momento Non attaccano L'immortale Uscino Mi compenso Top Queste Adesso Ci chiuderanno Fuori Infinito Tipo Io vi dentro Amico mio Non ci posso Entrare Dai L'ho mancato Per un pelo Dove andare giù Zero Te l'ha dato Tutto Tipo Per questo Robo Abbiamo il Tant Abbiamo la Fallata Abbiamo Me Ok Non abbiamo L'autotac Ma pazienza Vai Tantala Fun On Andato Oh cavolo Buono Buoo, che cleanse che gli ha fatto Maledetto, infame Quasi finito le stack Giustamente come dice che è lancestral in cooldown Ma mi sa che potremmo ancora subire veramente tanto Noi sono tutti giù Non si riescono a non beccarle in rotation Non si riescono a non beccarle in rotation Possa via! Ohoowowowow! Possa via pure lui Non ci pensare nemmeno Ah questo è rischi Cioè abbiamo comunque vantaggio però rimane rischi Scarica, holy shit Corri, non rimbalzare Dossa i bordi Abbiamo dalla parte nostra Un pochino ci aiuta la cosa C'è una cosa che abbiamo un uomo in meno Ma dai, ero fuori Ma comunque abbiamo Più Velocità nell'ammazzarlo noi Quindi possiamo ancora farcela Holy, flap Mi avete dovuto prendere sane, amico mio Bello Dove è andato il bocciolo? Vabbè Non di così Viglia di corsa Vola, vola, vola Vola, vola Vola, vola Ok, è andato Vediamo sta porta Così riusciamo a vedere oltre Così a me No, sì Non si capisce Dove se vi ha rinne Buono Mancato di soffio No, ha finito il mana Cavolo Ho visto che sta facendo i numeri Sì Ho contro un italiano Si chiama il rinnegato Dovrei averlo fatto in amico Oh, sono matto No, non ce l'ho a fare i miei amici Vediamo se ce la faccio a fregarle Sì 5% comunque Il loro core Proteggiamo What's left Ciao Rangets 5% That's a A Kermit Perché non è partito l'audio del Kermit Adesso dovremmo anche scoprire questi Ok, sono uno in meno Perché il rinnegato dovrebbe essere quel tizio che Come si chiama? Aspetta che guardo Andiamo di qua Ma no Giuseppe demo demà Ah, ok Doveva essere lui Voi potevate chiudere questo game Sì, lo so Ma infatti non mi amici Andiamo con calma Quanto pare Oh, no, due alchemist Per killare Johanna Come ho fatto a stare viva DG C'è il mirtillo Buonasera a te Ronge Allora, abbiamo un problema molto importante Che è il Kermit Che non funziona Quindi vediamo se sta mando immediatamente Mvp Cosa succede? Mi devo ancora mangiare Ho mangiato solo un uomo Funziona il Kermit A posto Cosa mancava? Nulla Siccome l'audio è nel cloud Non devo ancora decidere perché l'ho fatto Miseria vacca Mi sono lavato Porca miseria Ma vacca roba Molto bene Allora Vediamo anche che ho qualche timore Che il mio simpa microfono Significa sia autobustato da solo No Attiva la riduzione 380 punti Vuol dire almeno due partite vinte Più la promo Allora Ma ha giocato bene con Bucciaro Ha fatto Cioè forse non era fatto adatto Nella mappa in compenso Talpone report Report talpone per gli amici Paraparapapapa Vorrei anche provare per la master in team league Ma è un'incognita quella roba That roba is un'incognita Sprook kermit Risistema C'entra lo schermo Adesso tutto corretto Fantastico E ho fame invece Ridendo e scherzando Mangiato I petti di pollo Fatti No velocemente di più Però in questa casa Non c'è un tubo da mangiare Perché finché non si fa la spesa C'è poco Devo andare a fare la spesa Prendere cose da mangiare Poi mangiarle E forse mangiarne ancora Perché avrò ancora fame Nel dubbio Il rig Blackhearts bay No Garden of Terror Ho detto Quali non mi piacciono O una o l'altra What? Questo si chiama Punti di domanda Come ha fatto? Non si possono mettere i numeri I punti Cioè Forse ha messo dei caratteri strani Poi Siamo F 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 Devo creare a proposito Da ora che mi è venuto in mente Un nuovo comando Da sul naito boat Sto ci pensa Silvanus. Boh. Diciamo che c'è un ban più pensati, ma ce la faremo andare bene. Noi cosa baniamo? Pensaci un po'. Ban Ragnaros dovrebbe, ma non sembra che lo farà. Vabbè. Eccola lì, che noia. Ha un piccato Ragnaros, che palle, che palle. Ho ancora a decidere cosa lo counter aver bene. Fight fire with fire dicono, quindi potrebbe andare Kelthas. Gente Prazeroth. Detto così sembra uno slogan di... non so... di cose... di reclutamento. Chissà dov'era quella funzionalità sul bot. 90 90 bot. Eccolo qua. No, non è questo. Default. Hanno preso i vikinghi? Full infami, proprio? No, da chi è sta roba? Lunara Valida. Oh. Allora lo metterò come custom un comando. No. Non è cosa che si fa. Rip me. Banno al divano, è un sensato. Allora non mi dia si osa per ora, quindi magari funziona anche. Cosa abbannano questi mo? valla sensato senza dubbi hanno ancora i tc open sto a piccare luthio ho preso luthio c'è anche un mad for phoenix in the house per guardare le cose i vikings si vediamo di mangiarceli questi vikings che mi sta già antipatico magari riesco a staccare per bene quantomeno e la miseria un peso gina pur non il dubbio l'ho proposto e questo ma decisamente ignorato comunque io lo riporto per il nome voglio sapere con chi parlo non posso dire un punto di domanda punto di domanda punto di domanda chi sei vabbè vediamo come in giro la situazione luthio può fare comunque un po il suo almeno contro ragnaros come protezione però si diciamo che ragnaros rimane uno dei pic più forti da fare i nero leader ora come ora unlucky x boom basti su quello con i vikings si è scasso ragnaros non è scasso però la master quindi forse un pochino ha giocato ha capito come funziona il personaggino tutta una serie di interrogativi ci affliggono questa serata tra cui ragnaros cosa fa nella vita oltre a scrivere dei forum io lo vedo a 3500 messaggi così quanti pixel e mi chiedo insegnami io non riesco a stare su un forum un po più di 10 minuti mi vera noia tu jackie quanto stai sui forum jackie non ho rapito loro di sicuro sono stati loro e adesso sono rotte tutte le gif proprio full rip delle gif le tasti di scelta avanzate le tasti di scelta rapide mostra il gif che eccolo lì vedi applica ok io ora l'illuminati funzionano dub funziona kermit funziona vediamo se funziona anche di qua kermit c'è dub c'è illuminati no sistemiamo gli illuminati come faccio a stare senza i miei incoraggiamenti gif paρapapap pam pampampam parapapam parapapam proviamo non funziona questo vuoi hanno il computer a patate davvero già chi mi sente io sto crescendo studio spesso è pc quindi non mi costa una finestra aperta aggiungerla ogni tanto ah ho capito sono un bravo ragazzo insomma uno studente o forse hanno cominciato a caricare questi boh vabbè mezzo ha rotto il dominato perché hai preso il blocco tizio non ti serve non hanno si hanno tutta che hanno carazzo però insomma non devi subire il danno da lui devi subire tutto il resto ma allora c'è cablietta ciao ciao stasen come si dice ciao in russo ciao in russo non so come dire ciao in russo ah fuori corso è abbastanza normale non ci sono non li vedo continuo a non vederli ecco lì tieni i divisi meteoro dove è il lord vikingo ciao in russo so we have an international viewers tonight here stay in russia or from russia which are different things i hope you're ready oh charlie uh ok ok viking down both from russia and russian just to have an international viewer like you so you just came in the industry on the stream while we were having what i call a thursday rap demands which is an appointment on the thursday unfortunately this thursday is not live because uh uh i was busy with a community event which was playing on overwatch and different communities from different games were playing on overwatch and we lost whatever it was fun very very close though oops and so yeah that's why we you're not seeing the same old weird things about you're getting these help whoops they're not here no what the flip so you just play heroes of the storm or do you even play something that's like for instance overwatch i will be curious i believe this ragnos here is quite scared from me holy flips i'm all over my man holy flat dude don't over extend like the okay we have the we have these which are much more stronger than theirs okay careful there burned flesh well that i can't be yes that's quite weird run for your lives we need those sweet extra experience drops every experience matters so fast and forest lane clearing i'll help you wow that was close okay yes get wrecked i want to get some stacks i'm just at eight bleh at least this guy is not that good with vikings not really oh that was again that was the old class cool go help here please no again damn bribe at least we just had the way which is helping stop in blaze die you bad boy I'll take okay is it taking to not have himself oh flip okay what do we have here I'm pushing viking split-socking vikings as well nope now we're up the mountain okay so we have this spiking here we can push we are careful there just half stocks oh come on run for lives what where was the mosh whoa damn stupid dumb my bad I shouldn't have shouldn't have gone that way I shouldn't just speaking english how's my english station 888045 numbers station numbers you will be station n why not why not holy crap well okay he can try to get those but that's one stock again stop it we have to protect our camps while your enemy has spawned a terror in this start go away from me damn that like won't go down yet but was close who are stealthy lucky him all but he should run away anyway that was sucks wow that was nice get back since i have no mana no life nothing don't hit me report him back i can get these since i don't want left to leave them to the vikings whoa that's coming protect it you will get it don't want to get it daemon wake up to hold hold you so many times that was that's such a point which is not good for us for theirs not for us holy what the got wrecked i guess i can't keep i can't english because we have an international viewer from russia which is staison just we don't have to let them play vikings correctly which is what's happening since our little get away here the one just need to get my stacks just need a lot of stacks actually i'm so late so damn late in getting them it was their spot two not only but two get them get this as well oh crap you're dead and help you will help by yourself maybe yes nice contest we can con nah well i mean that's not the best idea oh get away with that missed i just noticed when you launch the phoenix it will form a weird strange glyph on the ground i missed i have no damn holy molly i'm so low damn have to get back guys you're dead i hope no he's not dead whatever they didn't get much this time as well luckily we can get this get this get everything don't just don't let the bikings play yak we started very well actually countering them let's move on you're bad guy bad bad guy give me your stacks stay focus you just use that for escaping get away get the damn away holy nice counter that wrong way uh we're actually looks like this guy is getting a grape of the vikings crap why are you fighting thanks for the stock I guess that doesn't look good one's down two's down still have to rest drop it before we went off let's try actually which gives him a short cooldown about 10 seconds 20 without 20 they're missing for manufacturing we should be careful like this not even close not even damn close I got my stack actually it's getting dangerous start too well I guess I might even get infinite sprites because they still keep on doing whatever they want oh crap oh crap this is working this time stop him ok ok we can reorganize nah they just lost let's just push bot just follow get theirs get them everything everything went off late because i was interrupted i didn't know how vikings damn it this is not really working get back to where we belong this guys keep on keeps on covering up there his vikings from infinite ranges should get this as well oh well we can fight i guess just don't fly them into us you dumb crazy dude why what did runners get for his 20 huh real difficult try hard careful there get the damn careful out of way just defend damn it there we lost they were stopped by a mani it shall be done we are trying to just kill all these vikings here now i don't camp to defend another pressure 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 everywhere because this is not getting power rate got away oh there go for okay god damn could you please luthio okay that's one kill for three for one at least they're still popping up don't know how we're losing this to the vikings damn damn vikings so hot no need to fight for you against five guess so just need seven guess everything is working here i will have got sub woofer instead this is them back to scar so holy crap dude damn where you cannot act no don't do that again same old story if you pushed them which are so damn hard kill we will get that will he got third win there yeah still low and it's lost quick prank thank you Grazie. 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 Un'assurdità. Questo qua stacca. Fammi vedere un attimo anche che talenti ha preso. Se l'aveva fatta pure la build sulla meteora. Match history. Vediamo un po'. Che bella sedia. Sedia streaming back online. Perché non mi ha caricato il match. Beh. L'ultimo che mi si ne ha batto Fido Petronity ma. Mi serve l'altra partita. Beh. Xandos. Perché succedono queste brutte cose. Queste. Perché hanno sempre Ragnos di là. Noi non lo abbiamo mai. Mai. Vabbè. 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 I vichinghi all'inizio stavano subendo il mondo. Vediamo se riusciamo ad avere un minimo di sprint. Non. Vabbè. Vabbè. Quello. Non so dove oppureondarlo a depotenziale. comunque è abbastanza funzionante in qualunque situazione sto schifo ma come che bann è sto bannando a Tannis BTC Malfurion come è bad se non sai bannare quantomeno ascolta un minimo e discuti con chi scrive tipo io questo qui non sappiamo neanche se in realtà abbia quanta pazienza non guardo neanche sentirò by fire vai vai Ragnaros vabbè prendilo tu io non me la prendo io davvero mortacci vostra abbiamo il nuke l'abbiamo healer tank dps ban Malfur no please santo se hai seguito e hai donato per l'evento fatto dal merlo di overwatch ci hai visto perdere con valore sottolineo con valore ok abbiamo perso 2-1 abbiamo visto vinto ho perso il set sempre 2-1 quindi quasi no no morti no dude ecco meglio va rimangono comunque un assortimento di brutti personaggi questi dell'eerolick senza dubbio vario pinto dipinto di anì questi troller questo qua mi fregherà tutti i sulfur smash che li tiro in testa di sicuro che malessere che sofferenza eccolo li potremmo tranquillamente prendere un bruiser un secondo tank qualcosa insomma o should i go parapapapam parapapam chissà questa gina quella che avevo in team contro prima vediamolo eh se mi caricasse replay sto coso non capisco perché non me lo carichi forse è duplicato boh vediamo success no non l'ha caricato boh il crusade call se voglio giocare vabbè possiamo ancora farcela spero ok ho un po' di far quadrare un po' di roba tu sei ancora peggio è arrivato poco fa ok peak abbastanza normale insomma medievo è l'unico di atipico via sulfuras via così carmite di incoraggiamento mini ragnars pronto e carico lock and load sono finito 5 4 3 2 1 si hanno falsa di che vola si hanno falsa di che vola che cosa ha detto con la roba basta arrivare un tot di roba ah no zibo lo che ho tuono fare il passo più lungo della gamba prendo a explotare un rei si hanno falsa di no ho tutta di oh sai ti no dai ti no ti no ti no ti no hai ti no ti no ti no Via dalla mia caverna! Dalla mia palude! Da me un police è guerritissimo, cosa credi? What the? Guarda questi infami! Fanno le volume for the place! Ora ci metto bene, ci metto ben poco a... ...andare a nuccarvi la faccia con molte ancora eh! Tira fuori giù il drone... ...catchin' fire and fire... ...fire... Nooo, non ci vado da! ...your judgment has come! Quattro e quattro, bot ha subito ingenti danni. Ok, questo è finito. La magia del Tempolo dorme. Nooo, mi fregati! Figlia da qua! Andiamo back a casa! Oh, becchi! 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 No. Non ho letta la canzone. Vabbè! Ci stupiamo ogni giorno, dico me. Io ricordo cose sbagliate, d'altro canto. Il GANCHERONE! Che va a colpire a morte il nostro povero tra... ...giustamente che... ...scrivono... ...non avete chiamato il mio... ...s... ...e noi non potremmo dire... ...neve stare un po' più... ...dietro... ...un po' più safe... ...un po' più... ...rutato. ...dietro... ...unita bestia! ...fame! ...fotopaddle è down! ...to Kanoi? ...maybe... PONK! Gli ho! Nooo Globens Eh siamo un tantino in ritardo Decisamente Disponibile un nuovo driver della G.O.S. Grazie male La mia magia trova tra i tempi Guardi Se te ne vai sono anche più contento Stupida notifida Ah Uno Da no ho sbagliato tutto Allora Questi sono un sacco di stack però Molto due stack sono solo 17 noi De noi Ah ci andò giù Ci andò giù Dai si ha salvato così Preso Buono 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 Come ho permesso Via Non voglio schiantare gente con la Sulfura Al suo giro Andiamo toppe Questa deve ricordarmi di utilizzarla però dopo che lui ha usato il vault Se no se è furbo Rescia pure a farmi mancare quella cosa Pa 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 ra pa pa Stuck Finita finalmente Oh Careful Chi ha preso poi il Polymorph? Line Line Seal Vuole fare proprio le plates Twilight Dream Ma noi abbiamo anche pure la Non riesco ad arrivare Lui si piace perché è un animale Mist Quello ha colpito invece Ok Loro è da bestia Uno l'ho preso Un minimo di mortacci su aglio lo tiro Vieni da meee Sì Voi prendete quello Questo cos'è robot? Vamos Prendamos Rubamos Oh 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 Cosa vuoi da me? I' Un interno di mortacci su aglio? E' un'altra cosa? Non ci posso? E' un'altra cosa? E' un'altra cosa? E' un'altra cosa? Cosa smashy? Smashy ready, smashy ready. Come at me, bro. Usa via. Eh, io resto. Non imparerete mai i nani o infami? I noni, i noni. Un classico dei nostri tempi. Chi non conosce i nani? E poi c'è un riff bello cazzucco quella canzone. Bello gradasso. Volenteroso, pieno di energia. Mi sta saccato pure da questa. Fantastico. Uh, questo deve morire. Un sacco di volte pure. Allora sono qua. Uh, quel mal furibondo. Sto pronto a pigliarmi il loro diavolo di... Uh. Grandioso. Oh, oh, oh. Possiamo fare cose. Dai, sto roba è ancora vivo. Ui. In effetti nel choke subiamo molto più di quanto non lo facciano loro. Ok, chissà se il tempo passa. Paolo di volte adesso. Con Mini Ragnaros è intattato che di mina. E sparisci pure. Questa line line si l'ha usato quindi possiamo farlo senza preoccuparci. Non ci roberto questo. Oplà. Parole di incoraggiamento fanno sempre bene, più o meno, o forse sono le parole per riuscire da arrivare in master. Mistero, mistero misterioso. Allora loro proteggono, noi facciamo cose. Botte, botte in the face. Suvuras è pronta, pronta al decollo. Cosa vuoi fare con questa roba, tu bestia? Non ci credo. Posa dia. Ok, chaser, chaser, ce la puoi fare, mai prendo. Ho un colpo di gazzia mio, allora. Possiamo andare a contestare. Voi quattro irriducibili che mi seguito lo stesso, anche se è una serata un po' così. Per razzi. C'è un numero lì che c'ho scritto a quattro ma se siete di più o di meno, non lo so. Se siete di meno, non mi era triste. Molto ancora ready. Io dovrei uscire con la carica. Non ci credo. Non ci credo. Molto ancora. Non ci credo. Non ci credo. Unc 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 via oh sì di amine un cielo fatto a svegliarmi questo si sta prendendo un po' con calma è giusto ma usare un paio di skill in più dude per carità finora sta facendo anche bene mi appare di damage nooo via stanno sparando da entrambi così occhio questo silence non so nemmeno riesco a capire come si sta sfruttando realmente e porca miseria anche tu la reverse amp dai arrivo andate indietro my friends è mancato porca via uno porca via due questo deve morirci assolutamente tanto ok temo che mi seguirebbe di più a submerge no siamo in vantaggio conviene di continuare a pushare con le heroic ok ottimo timing pushare via ah no ancora fa saldo attivare attivo però eh io ci vado YOLO 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 è il che è il Mazzuolo Non avevano sti muri Stava facendo veramente Le cose cattive Fermalo Guardalo male negli occhi Ma più male No ho dimenticato prima GG button D'ordine Damn Ragnaros Ma ha fatto bene Trald Anche se non si è visto Actions particolari Anche lui ci ha fatto giusto Non ha fatto azioni spettacolari Ma di media Ha fatto molto bene Penso Fa parte Metterci quattro vite Per pulire una wave Ma succede a tutti Che noio Che barba Che noio GG Ma della storia Finora Persa una In te due E di fatto Sono avanzato Di soli Quindi 200 punti Bello Sta andando avanti Adesso c'è Splatoon Contro Counter Strike Carini Io Così Entro in game Con quelli di prima Che cercavano un quinto Guarda nanna Che stai stanco È vero Un sonno Intorno a metabasto Qualcuno che faccia Team League Dai Un volontario C'è Ciao Fenicia C'è Xandos Facciamo un duo Quo salvatico Con il Xandos Vediamo se ci sta Lico subito Grazie 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 Ciao Oddio Senti il doppio C'è Eh no Ti stavo guardando In streaming Senti Ho due volte La tua voce Ho detto E cazzetto Spegni uno dei due Ragazzi Mi è arrivata Una foto bellissima La sto per pubblicare Su Facebook Di cosa? Di me Eh? Ah Hai detto Lo streaming Dunque è bella La partita Siamo In streaming Sì Ah Scusa Non lo sapevo Beh Voglio vedere la foto Adesso Adesso la metto Dammi un attimo Allora Devo capire Per ora Non è successo Niente di Imbarazzante Insomma Quante ne hai vinte Stasera Vinte due Passa una Quante te ne mancano Due praticamente Ah Luca mi ha scritto Doce Che non c'è Perché Ha detto 2016 Sarà alle 6 Come si fa A salvare una foto Mandata su Facebook Sul cellulare La so adesso La apri E fai Salva Ma perché la devo fare Poi dal cellulare Cosa cambia? Salva immagine Eh la sto pubblicando Su Facebook Ah pubblicando Addirittura Eh si ragazzi Pronti a vederla Sfarmate mi piace Per favore Se vuoi facciamo Una duo q Una duo q Ma in team league Vabbè ho capito Ma volevo giocare anche io Altrimenti facciamo Un quick Visto che siamo in 4 Eh facciamo qui Poi c'è anche Spagiana Che come al solito Sta zitto No Spagiana sta In team con altre persone Ah pure Un dispettoso Insomma Eh vabbè Ma tu non fai La rabdomazza Del piffero Cioè È un vinto Integno Sono stati impegnati A perdere Su overwatch Ho perso Con onore Eccolo lì Eh Vabbè Me ne vado Così fate due No l'ho visto che sei tu Facciamo tre No 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 Fate due Ciao No 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 Per la madonna Non fare l'offesa come sempre Vieni qua a giocare Che ho visto Lo dicevo prima In streaming Che manca poco Al A fine della season Provare a fare la team league Ma Lo facciamo Vieni qua Sei disconnessa No Ma sta foto Dov'è la foto Sta arrivo Ti piace evitare Di far l'offesa Instant appena ho detto Che avrei invitato lui Scusa se lui stava Per giocare con me E tu lo inviti E io come faccio a saperlo Credi magari Dato che entro in canale Con il piede tipo Scivolato Poi manca eravate in patto Cosa devo dire io Ma ragazzi Cioè io Basto Basto per tutte e due Cioè se No io sono golosa E voglio tutto per me Ah Ci aggiungiamo anche Un po' di musichino Così Ci ascoltiamo anche qualcosa Avrei voluto fare io La mappa Che stanno giocando Adesso su Sullo stream Del merlo Ma quick Non possiamo fare Arrunked Che almeno è più serio Sì capo Facciamo Arrunked Troviamo Le capri Ma Spagiana Non le invitiamo Spagiana sta giocando Con altri Ci tradisce Il talpone Il talpone è andato via Ah Perso mi è distratta Ma sta foto Un attimo Ciao Certamente non ci vuole Tanto a farlo Per quello chiedo Il compenso Mando a ready Quello che Devo averlo fatto Sto facendo tre cose Sto preparando Per giocare Sto mangiando E sto facendo cose Va bene Ma dai Eppure stata Caccia Sauma Taglia Ma se la stai editando È un altro discorso Ho appena giocato Ancora io No non la sto editando Lai appena giocata Io l'ho ancora iniziato Ho sbagliato A mettere una frase Credo che l'ho pubblicata Credi Eh non lo so Oggi è una giornata così In cui credi cose Sì È arrivata È un Pikachu gigante Sì È un Pikachu Bellissimo Piccate Quello che volete Io affillo Oh ma io sono la prima Cazzo cazzo No Niente dire cazzo Bene bene E lei è golosa Che vuoi da lei Interessa Ah ma non sono io Non mi to' dubito Ma va E due E due scusa Mi son bloccata Non ho detto tutto Che noioso Che sei pure te Sei peggio del bot De la gente Che già È nazi Il mio bot È un nazi bot Ma perché lei non sa Configurarlo È diverso Ragazzi Dobbiamo configurare Comunque Il comando Pensa piccare Intanto Io prendo Sai che deve piccare Vero Ok Tiene il culo Lentina E tre Va bene In modalità Buona In 30-40 secondi Ha fatto tutto Meritrazia Meritrazia Ma che ce l'ho Se mi ha dato il mio canale Cosa credi Da quando Da un po' Devo aggiornarlo Col counter tuo Così partiamo Partono Dallo stesso punto Guardala come sei già Preparata Le parole Di riservo Toccherà Tancare Insomma Mamma Dopo questa Nonne Sono stanco Dependere The H Avremo Il global Quanto meno Io volevo giocare Giogal Però hai far spiccare Per i miei E non potremmo far spiccare I giogal Come no? No Se in sequenza Ma ce l'abbiamo il global Tra l'altro Scusate Se avere un altro Anche loro ce l'hanno No Ve lo prendo io Per una volta Ne hanno due Barboso Quando Cosa col taunt Ho mai usato Tipo Ho Zarya Che però Gli mancano sputo Per i 10 Però poi Mi fa missare Tutto Sì ma Guys Solo tank Cosa? Zarya Tieni Tieni bucciolo Non so vuoi Non vuoi bucciolo Perché Tassa Dallo Così Per cambiarsi Solo le incontro Zazzà No Come no Si Ma ci sta Gadslau Però potevamo lasciare tenue E pushare ignoranza Sapevo che prendevano quel tipo Appena tanto Karzin deve morire Però Vuoi uccidere un povero calvo No Un povero monaco Più che un calvo Cioè scusa Cosa I calvi lì Non è che perché sono calvi Hanno dei benefici Mono ci si Per esempio Al Non è che c'è Dei benefici Povero A parte il beneficio Del dubbio Sul fatto che una volta Vessi i capelli No Che commenti Cattivo Dai Sono le 11 e 40 Non è il caso No Alla riderà Poi mi chichieramo Spruzza Acido Spruzza Non c'è Adesso Allè Andato a suicidarsi Perché la Roma Mi cambia Ha vinto col giocallo Come sta andando La Roma Ha vinto 2 a 1 Il primo Stava dicendo 2 a 1 Il primo tempo Poi ha perso 4 a 2 Al secondo Quindi credo Se dovesse tornare Ci chieda delle persone A casa Così Facciamo un nome a caso Spagiana Sì giustamente Se dovesse tornare Ho paura Che si sieda Dal suicidario No Era contro Un team facile O difficile Una squadra potente O debole Non lo so Come si dice In questi casi Forte Cispo Spagi Sei tu il calciofilo Qua dentro Awakener Che cosa Ciao Awakener Ciao sposo Sposo Ormai si è anche sposato Noi lo vediamo da un pezzo Davvero Si è sposato Ma avrà anche avuto Un figlio ormai Ma Ma Aspetta Ma che stavamo parlando Del fatto del calcio Non lo so Se la Roma Era contro Qualcuno di potenza Ciao Davigener Giocava contro il Lione L'Europa League Ciao Davigener Ed è forte o meno Beh all'uno Awakener Sposa me Ti prego Diciamo che era Una delle squadre Favorite per vincere L'Europa League Assieme alla Roma All'uno Ci sta Boh Scegli tu L'hanno cambiato Devo ancora decidere Con quale mi sono Sei tu il pro qua dentro Ma se il Diamond Anche tu E gioco meglio di te Effettivamente Però Questo non è vero Non è vero Se cecco come un campione Ciao Scusare me Ma il nostro Fanta Heater Che lo sta facendo giù Tu muori Cosa sta facendo Eh ciao Buonanotte Sono in pensione Diciamo Il che ha detto Oh Questo qua Di swap a tutti Perfetto Ottimo hits Ecco Forse non avrei preso Quello Cosa Xandos Perchè Perchè Dietro Il nostro Ma perchè abbiamo Due healer In una lane Sembra quasi Sembra quasi Il titolo Di un film Di un cine panettone Tipo Una polterona per due E due healer In una lane Dobbiamo anche starci Per quello che ne sappiamo Comunque voglio dire Solamente una cosa In questa foto Dove la Jessica Ha messo Pikachu Se siete qualcosa Anche lì Cioè Niente Che mi sono ricordato Che stavi in streaming E non potevo fare La battuta cattiva E dillo adesso Eh non posso Continua ad essere in streaming Non è che l'ho smesso Te lo scriverò dopo Adesso devo vedere Che cosa si vede di me Ancora due mesi Per decine Decide Phoenix Però se deve essere Convincente Per il cambio Cosa? Deve essere Convincente Se vuoi che Ha vuoi Tiene la tua sposa Ah vuoi che Ne ha reso cucinare Ma se Cucino molto bene È russa È russa E tiene una quinta di seno Cioè Per me Ha vinto Era russa Adesso non è più Era russa Non è più russa Ma Ma Non tengo una quinta A prescindere tutto Ma perché C'era bai due in giù Che dobbiamo soffrire Ah vuoi che ne è portato a posto Se ogni interabdomenza Però ti aspettiamo Prima che ti sposi Perché poi Non potrai più giocare con noi Quindi No ma cosa dici Ma che moglie perfida Cosa dici Io la butto Cioè se mio marito Se mio marito Non mi facesse più giocare Tipo non lo soluserò mai Ma se è già tuo marito Vuol dire che l'hai già sposato E se il mio futuro marito Non mi facesse giocare Cioè Non è l'uomo della mia vita Cosa ha fatto quello Come ha fatto a ingastrarsi lì dentro Ma non lo so Ma perché sei scesa anche tu Perché credevo di Fare aiuto Credevi di fare aiuto E' come loll In versione accorciata All'inizio Siamo in giro Dall'attuale Perdiamo esperienza E forever Riff Sì ma bau Io non ho perso Ne wave Niente Eh dai Io col bau Ti bau E io bau Lo dico Lo gioco Comunque oggi Spaggi per ricollegarmi A quello che hai detto tu Mi ha fatto troppo ridere il mio maestro Che ad un certo punto Stava spiegando un passo E Faccio salsa Quindi Per capirci Durante la figura Perché cammini dritta Quando fai salsa Perché sei cattista Per di caldo No veramente Come sono fatta Per dot Anche oltre la vita che recuperi Aiuto Ma davvero Sì Rimane che non devi camminare dritta contro Uldan Ci prendono al top Ed è solo l'inizio E' inutile che vai top C'è Mi ha preso E non abbiamo neanche preso i merc Prenda away Non serve Devi venire giù Dobbiamo fightare Prima che prendano il 10 E avremmo fatto un Un 5b3 Amatalo Questo non me l'ha chiamato Nessuno te l'ha chiamato Su Detta è inutile che vai giù Vai su La manina Guardate c'è una lost Come Mi ha fatto morire lo sole No 8 e 10 Guarda dai Non possiamo Fidare Possiamo fare un tubo Eccolo lì Grandeso Che ho ciargiato in testa E sta voltando Ma perché Stiamo tryhardando così Ma che noia Nel frattempo Ma ci ovviamente Ti guarda No Valedetto Allora Cosa ne pensi Della potentissima probe Della potenza Della protos Su quello Avrei molto da dire Riguardo invece a probius L'ho provato in ptr Contro i bot Perché non mi trovavo le partite E trovo che sia molto Molto squishy E efficace Solo con Cioè Alta di skill È un personaggio Con un alto skill cap Secondo me Perché appunto Sfrutta praticamente Solo La Regen Sui piloni E warp rift Però senza Piloni Non fai nulla Quindi Dato che può essere Eliminato Deve stare ben attenti Dove viene Possibile Require più pylons Require additional pylons Chi è Mattia Vai Matalo Perché me l'ho polimorfato Stai Mestiaccia Allora Via Dai Lasciatelo Lì Noi ci accaniamo Così tanto Guarda Soppa Lì Invece Tutto questo Loro Nel 13 Dai Non mi Spira Ia Andiamo su Ok dove passi Stai passando Nella parte Sbagliata Hai face Checkato Un merito Grazie Ragazzi Da merito Grazie Mi sei mancato Comunque Mitrillo Backtip Allora Ho fatto molto Vai Può essere Come va da face checker Come va da face checker Sono Di face checker Di face checker Bitrillo Non vai Andare Io sono il tanti Io posso Face checker No Tu non puoi Face checker No No Mettilo Mettilo Luto Cosa vuogli Accarmiti No No E' da bo Accarmiti Infiniti No Mi ho sparato Se mi dici La solito Qualche parte Ma come Non vorrei dire Ma questo si sta facendo Il boss Ma lui può Gutsload Non lo aiuto E tu invece No Piuttosto aiuto a noi Scusami No No Anche ci moriamo Non c'è Il boss Col cavolo Mi fattolo Calma E' la prossima volta Via Ecco Ah fuck Fermate No no Corsa via Qua è finchio Uccidete Ho bisogno di vita Cazzo Eccola Facchicaccia Ma il boss L'ha tolto O no Sì Cosa vuoi L'ha tolto L'ha disingaggiato Facciamolo Facciamolo Dai Pam 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 Guarda che se Quello non mi cura Pur di starmi lontano Oh Ecco le arrivano Perchè hai blinkata in avanti Ho sbagliato Ma porca Quale è Sandos Lo qua Lo qua Ah appunto Eh 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 Che dove vado Facciamolo facciamolo Cosa Il boss Ho sbagliato Ho cominciato solo E poi quando c'è un 4 a farlo Non lo aiuta Scusami Versi migliori fight Hai recuperato Di carri Non che il nostro Brightwing Mi sembri un accino Proprio Matalo Ciao Ma è molto Il core Con Tasseler Sabe figo Tipo poi c'è i Ragnars Che li può E Tasseler Di scudi Mi sa che Aperdiamo Comunque L'ho usato io Il control Su T6 Il taunt Guarda questo Quale position Visto Cosa succede Per sciaccare Flop Dopo usciamo Un minimo Andiamo a verso Top Bene Bene Riccardo Venite dietro Magari Lasciatelo Scusa Lasciatelo Lì adesso Vedrai che cambia Deppos Ma io sì Sbagli È giusto Di ci rimanga Ma è cagnolata Su Lo prendo Come un Non state venendo Vengo io Io? Tutto Tutto Un chiatro L'era quasi Meno Sincero Cioè Ha pure Cioè Guarda quanti danni hai tu E guarda quanti danni hai lui Con Robo Goblin Scusa Se non è un chiaro indicatore della performance questo No non fatemi scontare C'è da depusciare un minimo ma lasciate lui Sono finalmente accata comunque al cavo io Yeee Funziona meglio Quindi sembra di sempre Oddio il momento non lo so neanche Mi è questo ultimo adesso Eh ah Ok Io vado prendo la fontana va Paraparapam Ghaz lord Nel frattempo Ghaz Scarso Che non sta pushando zero Ma Soprattutto Perché non ci aiuta Neanche una volta Ma almeno Stasse giù Orca miseria Ci ha pregato alla grande E Tra i polli Baw Io ero dietro Tra i polli Io ero dietro al tank Con calma Tra i polli Baw Anche io ero dietro al tank Ma io ero in una posizione giusta Dietro al tank Qua sta giocando Boh per sbaglio probabilmente È full addormentato Sta giocando What about time Come si diceva Che ti voglio Che ti voglio Poi loro hanno anche il vino Noll Non ti rompi questo Ora dargli l'impressione Ce l'abbia fatta Dovevo andarla a chiudere Adesso Possiamo fare il boss Minimo Almeno L'unica cosa Anche il Yeezy magari Prima il boss Ah c'è ancora stazzato oggi Anche il Yeezy Non prima il Yeezy Tu vieni qua ad aiutarsi Sennò non riusciamo a fare il boss Io non voglio morire Hai death Beh minimo anche quello R2 Grande bright Bel teleport In realtà ha avuto sfiga Io posso rimanere lì E spostarmi Ora veniamo questi Tu fai quelli da solo Sì Dovrai riuscire a farlo Forse Se pusciamo insieme Abbiamo ancora qualche possibilità Ci arriva Ma cazzo In realtà è stata Che D'accordo Riffre Fenyx Poi 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 Il 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 E dai a costa... Grazie per il vostro immenso aiuto nella mia fuga Dove cazzo vado? E DAI ma continui o? Siamo morti e che cosa devo... Non quello Cosa? Pensa a quello che hai detto Ti hanno prelevato Cosa sta succedendo ragazzi? Ah non ho scusato sull'altro Ok scusate, sull'altro TeamSpeak Cosa stai dicendo? Sono collegato in due TeamSpeak Utilissimo Camp Top, si ma Gazz mi sembra solo addormentato andante MVP Va bene Con questa finale io vi saluto Niente Dovevo dare la botta a Gazz Così magari si credeva pure forte Ah dai Alla fine ti ha ripreso con i danni almeno E' rimasto a difendere A 3K partite ragazzi A livello 10 lo gioco così Bene Sei un figo Bene Io vi saluto e quindi alla prossima Ci rivediamo Un domani Il giorno dopo Nemmeno Domenica nemmeno Non ne di direttamente Che c'è da finire Farò sicuramente qualche altro Hero League Magari a piccolo stream tanto per Ma Ne teleprogrammata per ora Quindi Grazie Buona serata Intanto Due minuti di musicina intanto Ciao Ciao Ciao